La notte del 14 giugno 2008, la fine di un sabato memorabile in cui era arrivato fin anche il Papa, l'ultimo giorno di vita di Peppino Basile, nella periferia già quasi campagna di Uggento. Nonato il fermo nel buio, affari spenti vicino a casa sua. A bordo ci sono due sicari che preparano i pugnali aspettando che ritorni. In pochi minuti si compie subito dopo la tragica fine. Rimasta senza colpevoli, impunita, mistificata e dimenticata del consigliere dell'Italia dei Valori, che aveva un sogno, vedere questa terra crescere per il domani dei nostri figli, senza ingiustizie, prevaricazioni, speculazioni economiche e politiche e disastri ambientali.